Salve a tutti ragazzi Ultimo ricordo della sequenza 5 Il profeta I rinforzi saranno qui prima del maestro Metteremo dei tiratori Le istruzioni sono qui Seguile Allora dobbiamo fermare la frenier Era da un po' che l'avevo lasciato quindi adesso c'ho Con le guardie scelte del capo Se la caperanno da sole Ora devo riprenderci la mano Meglio che mi trovi un nascondiglio Prima che arrivino tutti Ecco Perfetto Devo assassinare la frenier Esplorare la zona Creare opportunità Io non mi ricordo niente Allora occhio dell'aquila Come mi muovo Così mi muovo Devo sabotare degli allarmi No devo aspettare in un mucchio di fieno In quale mucchio di fieno conviene aspettare Eh no ragazzi il fatto è che l'avevo lasciato un pochino Capito? Quindi di conseguenza Ho il lomo Anche il salto Eh porco zio Nascondiamoci Ecco No non mi posso nascondere perché mi ha visto Vuoi andare nel fieno? Oh Aspetta Sarà meglio tornare dai ragazzi Adoro le prede che si offrono No mo ci ho perso la mano Completamente Non mi ricordavo manco come si faceva il salto della fede Che il fatto mo era da un po' che non ci giocavo Questo purtroppo c'è una meccanica diversa dagli altri assassin grid E quindi Quindi mi sa che era levetta avanti e cerchio Per fare il salto della fede Invece di X Che salto è basta Allora la freniera dovrebbe essere quello Io spero che si senta l'audio Perché l'ho alzato Ma più di questo non La verità è in pericolo fratelli Aggredita da ogni parte E incalzata dai giacobini che la snaturano con il populismo Io sono qua Questo ce lo leviamo subito dalle scatole Allora dobbiamo Vabbè questi sono gli obiettivi secondari Come vado in basso profilo Così No ragazzi non mi ricordo proprio niente Quindi Qua ci sono guardie dappertutto Vai al diavolo Ho fatto una mezza cazzata Perché Anzi la cazzata l'ho fatta tutta Non mezza Vabbè Vabbè A combattere me la dovrei cavare ancora comunque Ok Devo assassinare il coso Non mi ricordo come si piglia la fiala di salute Così si piglia Vabbè Il problema sapete qual è Il problema è che Che ho creato un casino Porca miseria Li tengo tutti dietro Vabbè vi ho fatto vedere sicuramente Quello che non bisogna assolutamente fare In questa missione Fermati lì La pagherai non so se riesco a non credo che riesco a finirli tutti vabbè io ho finito la vita e corri rotola fai qualcosa cazzo sono riuscito ad ammazzarla almeno mamma mia potevo metterci 5 minuti ammazza solo maestro potevo fin anche spararlo non ci ho pensato lo sparavo da lontano consegnate la lui in persona si maestro maestro c'è un problema cristof ha passato informazioni ai nostri nemici ormai questo posto è compromesso dovremo accelerare i tempi chiama gli uomini colpiremo l'hotel de povesta quindi a quanto pare questo era innocente fuggi dalla zona ti sembra facile ok proviamo a fuggire dalla zona cioè guardate in che situazione schifosa che mi son messo ma senza vita eccola le guardie nuovo forse ce l'ho fatta mamma mia beh ragazzi non fate assolutamente un ricordo del genere questo ricordo è finito lasciate un mi piace lasciate un hai fatto schifo vi posso capire noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti raga